Dopo 22 anni di latitanza, i carabinieri di Aros hanno arrestato a Catona di Reggio Calabria il super boss dell'Andrangheta, Domenico Condello, che gestiva la storica famiglia mafiosa dopo l'arresto del cugino Pasquale, avvenuto nel febbraio 2008. Il blitz dei militari dell'arma, documentato in queste immagini, ha posto fine a una delle latitanze più lunghe e gli investigatori parlano di un successo importante, in quanto Domenico era l'ultimo Condello rimasto libero sulla piazza Regina. Il boss deve scontare una condanna all'erogastro per omicidio, passata in giudicato. Inoltre era ricercato per diverse ordinanze di custodia cautelare, persuasione mafiosa, intestazione fittizia di beni e altri reati. La sua carriera criminale è legata soprattutto alla guerra di Andrangheta contro l'allore gemone clan di Stefano, il cui boss venne trucidato nel 1985 proprio da Condello. L'episodio innescò una lunga guerra tra le cosche, che in sei anni fece quasi mille morti e che fu fermata da Totorina in persona che attraversò lo stretto di Messina travestito da prete. Domenico Condello era inserito nella lista dei 30 latitanti più pericolosi.